Allora, partiamo da velocità costante, 25-27 nodi Loran, va bene, non si vede niente nel Loran, non fa niente. Il Loran che combacia, precisamente con i nodi nell'attachimetro, a 4.000 giri ci troviamo a 25 nodi, trimmata praticamente zero, diamo un po' di manetta. Praticamente il gommone con trimmata zero a 5.000 giri non cammina proprio, diamo solo manetta, questo è il mio dito. Grazie a tutti.